Cinque giorni di tempo per abbattere i sedici tigli malati, provvedere alla potatura di altri sedici alberi e poi procedere alla riapertura della strada. Tira dritto il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni, che sulla scorta del parere positivo della soprintendenza, giunto nelle ultime ore, ha ordinato all'ANAS di procedere in tempi ristretti ad attivarsi e creare le condizioni per riaprire il tratto della statale 16 tra la Nazionale Adriatica e l'innesto con l'A14. In pratica il tratto di strada che ricade sul territorio di Martinsicuro, chiuso oramai dello scorso 17 settembre, e che tanti malumori e disagi sta creando all'intero comprensorio. L'atto che ha consentito al sindaco di emettere l'ordinanza è quello trasmesso alla soprintendenza, che ha autorizzato il taglio di sedici tigli malati e a rischio caduta la potatura di altre tredici essenze albore, che necessitano di una manutenzione e di potatura. Abbiamo le preoccupazioni di ANAS, ma ripeto, non si può chiudere una strada a tempo indeterminato soltanto aspettando di poter tagliare tutte le piante. Noi stiamo facendo tutto seguendo un po' quelle che sono le normative, quindi c'è un territorio sottoposto ad un vinco pesaggistico, quindi tuteliamo la sicurezza degli utenti, però vogliamo farlo rispettando le regole e le leggi, quindi noi stiamo facendo tutte queste procedure per poter avere il parere che ci consentirà di poi mettere un provvedimento da dare all'ANAS per poter intervenire immediatamente sulle alberature che necessitano appunto un intervento di abbattimento o di manutenzione e poi riaprire perché veramente non ne possiamo più, nessuno di noi, cioè dobbiamo occuparsi di altro, non possiamo più stare a pensare ogni giorno a come riaprire questa strada, credo che ognuno di noi debba prendersi le responsabilità, noi che territorialmente siamo competenti come sindaci, ma anche l'ANAS come gestore, di poter riaprirsi in sicurezza, però tenete conto che le alberature sulle strade ci sono sempre state, quindi in qualche maniera bisogna far convivere questa situazione con la sicurezza.